Allora, intanto grazie mille, credo che siano state parole molto importanti, belle parole, ma parole molto sentite e soprattutto siamo nel posto giusto, perché effettivamente questo è lo spazio Europa, è lo spazio Europa in Italia, nella capitale italiana, ma sarà qui che comincia il nostro viaggio e non a caso il nostro viaggio avrà poi il suo momento forse più bello, anche divertente, interessante, proprio nella capitale europea, cioè Bruxelles, quando nel mese di giugno tutti insieme passeremo alcuni giorni a Bruxelles per vivere insieme ai protagonisti della vita comunitaria, incontreremo a Bruxelles il Presidente del Parlamento Europeo, questo è uno spazio anche del Parlamento Europeo, il Presidente Schulz, incontreremo la nostra commissaria italiana, Federica Mogherini, che è la responsabile della politica, la ministra degli esteri europea, incontreremo altri personaggi importanti della vita europea, insomma, non a caso cominciamo qui e termineremo l'anno lì e non è un caso perché l'Europa non è una capitale e tutto il resto periferie, Roma è una capitale europea perché l'Europa vive con la sussidiarietà e la sussidiarietà vuol dire che non c'è un centro e tante periferie, qui siamo in una delle capitali europee, in una capitale che è un pezzo del centro d'Europa, non a caso tra l'altro i trattati di Roma da cui tutto è nato sono stati firmati qua vicino, dove in queste ore sta succedendo un po' altro, insomma in Campidoglio, ma sorvoliamo su questo. Quindi comincia qui un nostro viaggio, sarà un viaggio molto bello, impareremo a conoscerci, ancora non ci conosciamo, impareremo a conoscerci, alla fine di questo viaggio saremo molto più che amici tra tutti noi, credo che questo stare insieme sarà una parte rilevante del nostro lavoro, uno stare insieme dei cento studenti della scuola e dei più di cinquanta, più che cinquanta docenti che hanno accettato la mia proposta, la mia richiesta di essere insieme a me, a ridare qualche cosa di quello che noi abbiamo ricevuto. Questo è il primo concetto che voglio qui esprimere, ridare qualcosa di quello che si è ricevuto. È un concetto che io considero molto forte, molto forte. Alla vostra età togliete qualunque sfumatura di possibile terribile paternalismo che non voglio mettere nella mia esposizione, ma alla vostra età io ho avuto la fortuna di avere tanti incontri importanti, di avere tante occasioni di formazione, oltre a quelle della scuola e dell'università, con tante persone che hanno cambiato il senso della mia vita. Siamo qui, siamo in una capitale europea, stiamo dentro un luogo europeo, ne cito due che per me sono state fondamentali, incontrare quando si ha vent'anni Jacques Delors e Helmut Kohl, negli anni in cui erano Jacques Delors e Helmut Kohl, lo sono ancora tutti e due perché sono entrambi vivi, ma ovviamente oggi sono entrambi ritirati, allora sono stati i protagonisti del più straordinario cambiamento che l'Europa abbia fatto. E se oggi viviamo tutte le opportunità che voi, noi, tutte le generazioni di europei vivono, è in gran parte grazie alla visione di personaggi come loro, che non hanno chiesto il permesso a nessuno per fare quello che hanno fatto, ma hanno fatto qualcosa di grandioso, l'Europa unita come la stiamo vivendo oggi. E il tema da cui riparto è proprio questo, aver avuto l'occasione io di incontrare quelle persone quando avevo vent'anni, mi ricordo ancora ogni parola che mi hanno detto in quelle occasioni, mi ricordo la percezione di che cosa avevo immaginato rispetto all'incontro con persone così, attività di formazione, tante altre cose. Abbiamo ritenuto insieme a queste 50 e passa persone che hanno deciso di insieme a me dedicare una parte del loro tempo in questi prossimi nove mesi all'incontro con voi, abbiamo fortemente voluto tutto questo e ho citato Jacques Delors e Helmut Kohl in partenza proprio in questa logica. Per me l'incontro con loro è stato un incontro fondamentale, io spero che anche per voi l'incontro con tutti i personaggi, tutte le personalità, i testimoni del nostro tempo che grazie a questa scuola incontrerete, europei, italiani, persone che verranno anche fuori dall'Europa, possa esservi utile per capire chi siete, per capire meglio chi siete, per capire che cosa vorrete fare dopo, per capire quanto la politica e le politiche potranno essere importanti nella vostra vita. Impareremo a conoscerci per l'appunto, nel senso che non ci conosciamo meglio, io vi conosco per un minuto di video che ho visto di ognuno di voi, mi sono fatto un'idea dal video che avete fatto, ma è un'idea per forza di cose parziale, e io sono convinto che anche voi avete un'idea di me parziale, perché è legata a circostanze, episodi, così come avrete un'idea parziale dei professori, dei docenti che faranno parte della scuola. Alla fine di quest'anno sono convinto che insieme invece saremo in grado di aver sviluppato un ragionamento molto più approfondito, servirà a voi, servirà a me, servirà a loro, servirà a tutti noi, e credo che sarà tutto questo molto intenso, molto utile, molto bello. Voglio dividere le riflessioni di partenza che farò oggi attorno a tre grandi questioni. La prima questione è appunto inizia questo viaggio, è difficile dire adesso come sarà questo viaggio, alla fine ci guarderemo indietro, sorrideremo su come ci siamo incontrati, conosciuti la prima volta, però adesso è tutto nuovo, siamo in una terra incognita, in fondo una cosa come questa è abbastanza originale, e quindi non si sa come sarà. Magari sarà una noia tremenda, magari a metà della cosa saluterete, ve ne andrete perché non vi sarete trovati bene, magari litigherete, litigheremo, non saremo d'accordo, può succedere di tutto. Io penso che sarà una delle più belle esperienze per me sicuramente, spero anche per voi e per i professori che ci accompagneranno. Quindi una prima parte su come questo viaggio, provo a dire lì alcune cose, provo a immaginare come questo viaggio di questi nove mesi cambierà le nostre vite. Una seconda riflessione, visto che parliamo di politiche, parliamo anche di democrazia. Che cos'è la democrazia oggi? E quindi alcune riflessioni le voglio fare insieme a voi su, siamo entrati in una fase nuova della democrazia, e che cos'è la democrazia oggi? Cos'è la democrazia al tempo di internet? Cos'è la democrazia sfidata dai vari populismi che vivono oggi nella nostra vita? La democrazia con il concetto di cittadinanza, totalmente cambiato con quello che stiamo vivendo di questi tempi. Il terzo punto sarà il punto finale sull'Europa. Siamo qui, parliamo di Europa. Quando io ho qualche mese fa scritto un libro, sono andato dall'editore a dirgli avrei voglia di scrivere un libro, o anzi ho scritto. E l'editore mi ha detto ma guarda un po', anche noi pensavamo di chiederti di scrivere un libro. Io ho detto perfetto, siamo a posto, ci siamo incontrati, e mi ha detto che cosa pensavi di scrivere? E io gli ho detto voglio scrivere un libro in cui dico quanto l'Europa è decisiva per il nostro futuro e quanto l'Europa di oggi non va bene. L'editore mi ha detto vabbè vai da un altro, un libro che abbia l'Europa nel titolo non venderà mai una copia, quindi non esiste che si faccia un libro con la parola Europa nel titolo. Mi sono sentito profondamente interrogato da questa frase, assolutamente vera dal punto di vista di chi deve fare il mestiere. Mi giro verso Pepe la Terza, Giuseppe la Terza, che fa questo di mestiere, e quindi probabilmente mi dirà lui se è sbagliata o giusta questa cosa qui. Il fatto sta che ho dovuto cambiare il titolo del libro e ho dovuto cambiare anche il modo con il quale lo facevo. L'Europa c'è ma in modo diverso. Però mi sono fortemente interrogato, mi sono detto ma perché l'Europa è così poco sexy? Perché l'Europa piace così poco? Perché è così poco attrattiva? Eppure noi siamo qui e siamo contenti di essere qui nello spazio Europa. Però l'Europa non piace. Anzi, sono cresciuti in Italia quelli che ce l'hanno con l'Europa, rispetto a quanto eravamo prima. Perché? Perché non va? Perché non funziona? Siccome questo sarà uno dei punti centrali della nostra scuola, chiuderò su questo punto la mia riflessione. E allora inizio col viaggio. Partiamo oggi in questo viaggio, siete tutti qua, io sono molto contento che siate tutti. Ci divideremo poi in tre classi di 30, 30, 32, 33. Avremo dei momenti tutti insieme, tutti e 100. A Bruxelles saremo tutti e 100. Cercheremo di far sì che questo viaggio sia un viaggio che effettivamente cambia le nostre vite. Le cambierà veramente? Perché siete qui? Perché siamo qui? Perché abbiamo messo in piedi quest'ambaradan così complicato, per il quale c'ho tanta gente che mi maledice, tutti quelli che stanno lavorando attorno a questa cosa. E siccome poi lavoriamo con spirito francescano, senza soldi, senza risorse, è tutto molto artigianale e molto legato allo spirito, all'inventiva, al lavoro, al grande volontariato che ci mettiamo. Già che ci sono, vi chiederei di ringraziare due persone che sono fondamentali, se tutto questo è andato avanti, su questo andrà avanti, che sono Marco Meloni e Grazia Iadarola, si fanno vedere. Marco è lui. E grazie a lei. Tutto è legato appunto a uno spirito di volontariato che ci mettiamo tutti. Perché siamo qui? Per cambiare. Per cambiare noi stessi e cambiando noi stessi per cambiare un paese che secondo noi non va come dovrebbe andare. Ognuno di noi nella sua vita ha provato a cambiarlo, ci abbiamo provato, ci siamo riusciti, non ci siamo riusciti, non abbiamo avuto il tempo per farlo, vorremmo che ci fossero le condizioni perché ci fossero tante persone per poterlo fare. Voi oggi siete qui insieme a noi, insieme a tutti noi, perché l'obiettivo è cambiare, il cambiamento. E per cambiare l'obiettivo è quello di avere la voglia di farlo, la voglia di farlo, la testa per farlo. E la prima alternativa che vi propongo, il mondo di oggi, è fatto di leaders o è fatto di followers. E tutti siamo followers. Io sono follower di non so quante migliaia di account Twitter che ho deciso di seguire, quindi anch'io sono un follower. Ma ognuno di noi sa che la logica del follower e la logica del leader è completamente differente. Ognuno di noi sa che la logica del follower è una logica molto de-responsabilizzante, molto facile essere follower. Posso essere follower di Obama, posso essere follower di chiunque. È facilissimo, posso criticarlo, posso criticarlo anche nell'anonimato, posso esaltarmi di quello che sta facendo. Sono molto spettatore però in tutto questo. Io penso che ci sia bisogno non di followers, ci sia fortemente bisogno di leadership. E voi siete qui, secondo me, anche perché portate da questa voglia di leadership, di costruire leadership. Cosa vuol dire essere leader? Se mi si chiedesse cosa vuol dire essere leader, io vi risponderei con un episodio che ho ascoltato, di uno che secondo me è uno dei più grandi leader ed uno dei più grandi testimoni del nostro tempo, uno dei grandi leader che io ho conosciuto, che è Kofi Annan, l'ex segretario regionale della Nazione Unite, il quale ha fatto tanto per il mondo, ha fatto tanto per le Nazioni Unite, è stato protagonista di tante vicende, ci ha messo leadership, ci ha messo la faccia, ci ha messo... e l'ha fatto con un modo che lo rende oggi una delle personalità, se avessimo la possibilità di invitarlo qui, se accettasse di venire, lo vedreste da voi, una persona che ha lasciato il suo incarico ormai da otto anni, una persona che emana una carica, una leadership, una forza straordinaria, che però non se la tira, se posso dare un'espressione, diciamo, tecnica. Vi racconto questo episodio che lui ha raccontato a degli studenti in un incontro al quale ho partecipato, che ho trovato assolutamente geniale. Raccontava, uno degli studenti gli ha chiesto ma come si fa ad essere Kofi Annan? Cioè come si fa ad andare per strada con tutti che ti bloccano, ti fermano, tutti che... in tutto il mondo, perché poi uno è conosciuto in un paese, se ne va da quel paese fuori è tranquillo. No. Dovunque sei Kofi Annan. E lui raccontava questa storia che è trovata assolutamente geniale, soprattutto il fatto che la raccontasse. E questo vuol dire essere leader. Con tutta la forza che lui ha e la forza che emanava nei confronti di questi studenti, raccontava questa storia. Io ho lasciato, dice lui, il posto di segretario generale delle Nazioni Unite, ormai otto anni fa. Quando l'ho lasciato eravamo nel pieno del caos di mille guerre, situazioni complicatissime, e quindi ho detto con mia moglie lascio, il giorno dopo, esco e ce ne andiamo per un mese in un posto dove nessuno ci può trovare. Perché non voglio incontrare, non voglio che nessuno mi incontri, mi veda, che io parli, dica niente sul mio successore. E dice, trovano un posto dove andare. Questo posto dove andare, totalmente nascosto, era sul lago di Como. Per cui lui va sul lago di Como. Sul lago di Como, dentro una tenuta all'interno, in alto, verso il confine con la Svizzera, e sta lì, giorni e settimane. Alla fine, dopo varie settimane che stava lì, due o tre settimane, comincia a rompersi per scatole e di non incontrare anima viva. Allora, alla moglie dice, vediamo, facciamo un'uscita. E vanno all'edicola del paese. Immaginate uno di quei paesini lombardi che stanno lì attorno al lago di Como. E in questo paesino esce, entra nell'edicola e l'edicolante lo guarda e rimane senza parole. Si gira e chiama la moglie. Piera, guarda chi c'è, vieni! Ma lei è qui. Ma dov'è? Come? Lui, insomma, ma è possibile? No, Piera, guarda chi c'è. Ce lo fa un autografo. Fantastico! Piera, tira fuori una cosa. Guarda chi c'è, c'è Morgan Freeman. Facciamogli un autografo. E la cosa geniale è che lui ha fatto l'autografo Morgan Freeman. Questo vuol dire leadership, secondo me. la leadership di capire la propria forza, di essere consapevole della propria forza, del capire, è un episodio molto semplice quello che vi ho raccontato, che ovviamente fa sorridere, ma è un episodio che fa e racconta la capacità di adattamento, il non prendersi sul serio, l'essere molto in grado di sapere come gestire situazioni come quella e come questa che lui ha vissuto. cercheremo di essere tutti insieme cittadini del mondo in questi nove mesi perché possiamo essere per tutta la vita. Cittadini del mondo è diverso dall'essere semplicemente con la nostra occhio rivolto esclusivamente al nostro paese. Essere cittadini del mondo è fondamentale per un motivo molto semplice, che le cose che accadono nel nostro paese si spiegano se si riesce ad alzare la testa e guardare a quello che succede nel mondo. Essere cittadini del mondo vuol dire tantissime cose, vuol dire riuscire a mettere le cose al loro posto giusto. Essere cittadini del mondo pur avendo i piedi ben piantati qui vuol dire sapere dove stiamo andando, cosa vuol dire che la globalizzazione ha preso piede e che stiamo vivendo un tempo di globalizzazione, vuol dire che il futuro è un futuro nel quale i demografi ci raccontano per esempio che se oggi dovessimo prendere il rapporto tra la Germania e la Nigeria per esempio, la Germania e la Nigeria cosa sono? Insomma, potremmo dire che sono l'alfa e l'omega della graduatoria in come noi normalmente ragioniamo sulla forza e la potenza dei paesi. La Germania, paese guida dell'Europa, il continente più ricco del mondo. Quindi siamo proprio al massimo. La Nigeria con tutte le difficoltà che sappiamo non aggiungo altro. Tra vent'anni tra vent'anni e accadrà, non è che è una delle cose che uno dice no, questa è futurologia non accadrà, no, le dinamiche demografiche sono messe in modo tale che accadrà tra vent'anni la Nigeria e la Germania che ho raccontato così, l'alfa e l'omega, innanzitutto la Nigeria tra vent'anni avrà tanti abitanti quanto ce l'ha l'Europa. La Nigeria da sola avrà tutti gli abitanti che abbiamo noi europei. E in secondo luogo la differenza tra Germania e Nigeria la potremmo vedere così. In Germania un terzo della popolazione sarà anziana. La popolazione tedesca fra vent'anni un terzo sarà anziana. Nel mondo fra vent'anni un bambino su dieci che nascerà su dieci bambini che nasceranno nel mondo uno che nascerà sarà nato in Nigeria. Perché la forza demografica e soprattutto la gioventù di quel paese farà sì che su dieci bambini che nasceranno nel mondo uno nascerà in Nigeria. E parliamo dell'alfa e dell'omega. Parliamo soprattutto di questo rapporto tra Africa e Europa che sarà uno dei temi che toccheremo ti sono molto grato per aver citato la questione delle migrazioni che sarà uno dei pilastri del nostro anno che faremo insieme. È un tema che io ho a cuore per mille e uno motivi perché credo che non sia un tema che finisce con la soluzione del singolo caso siriano che già è lontano la soluzione ma anche se risolvessimo il caso siriano il tema delle migrazioni sarà il tema che ci accompagnerà per i prossimi anni decenni e accompagnerà in particolare noi europei per un motivo molto semplice se voi guardate il mondo non c'è frontiera nel mondo che abbia la caratteristica che ha la frontiera tra l'Africa e l'Europa cioè il Mediterraneo qual è questa caratteristica qual è questa caratteristica la sappiamo tutti da una parte ci stanno i più ricchi dall'altra parte ci stanno i più poveri ma non è da una parte all'altra e non ci si vede ci si vede perché oggi con l'iPhone ci si vede e soprattutto si è a 14 km di distanza perché questa è la distanza tra l'Africa e l'Europa ed è la grande crepa del mondo non c'è frontiera al mondo in cui c'è questa distanza un tempo si diceva che era la frontiera tra gli Stati Uniti e il Messico tutta la pubblicistica ha raccontato di quella famosa frontiera tra gli Stati Uniti e il Messico non c'è paragone tra la nostra frontiera tra Africa e Europa e aggiungo con una situazione che va peggiorando perché uno può dire ma c'è convergenza pensate a questo dato che vi do che a me ha impressionato quando l'ho visto l'Africa è elettrificata per il 25% il 75% dell'Africa non è elettrificato il processo di elettrificazione dell'Africa va avanti a un tale ritmo che questo 25% in prospettiva calerà perché l'aumento della popolazione l'aumento demografico africano va a una tale velocità che il processo di elettrificazione non regge nemmeno l'aumento demografico in prospettiva sarà ancora di meno addirittura e se non c'è elettricità non c'è sviluppo però c'è visibilità perché invece i telefonini mobili gli iPhone tutti i meccanismi di connessione sono molto di più e quindi vedono e se vedono sono giovani e non hanno prospettive lì c'è un'unica possibilità per loro venire nel posto più vicino dove queste possibilità ci sono e siamo noi e siamo noi e tutta l'Europa quindi vuol dire che questa dinamica è una dinamica che abbiamo scoperto adesso perché siamo miopi perché cerchiamo di non vedere le cose che non ci va di vedere ma è una dinamica che è in corso da tempo che abbiamo gestito con la mano sinistra e che è una dinamica che diventerà sempre più esplosiva ecco perché nel nostro corso la questione migrazioni sarà centrale perché io sono convinto che in futuro se voi avrete voglia di lavorare in tanti settori che hanno a che fare con il rapporto con gli altri molti lavori nuovi saranno richiesti nel campo della interazione con i fenomeni di migrazione lavori di tutti i tipi di tanti tipi diversi ma in questo siamo sicuri che abbiamo un tema che si svilupperà che sarà amplissimo sapendo che l'Europa ha dato il meglio di sé attenzione ha fatto un errore e non l'Europa cioè l'Unione Europea gli europei noi europei abbiamo dato il peggio di noi stessi in termini di cinismo rendendoci conto che la situazione è drammatica soltanto quando abbiamo visto la foto di un bambino morto sulla spiaggia il povero Aylan la sua foto l'impatto che quella foto ha avuto ha cambiato in 24 ore la politica con un tornante a U la politica dei principali paesi europei perché si è vista quella foto e perché quell'impatto di quella foto sull'opinione pubblica ha reso impossibile voltarsi dall'altra parte come se e questo lo dico con amarezza profonda come se non si sapesse che succedeva a Lampedusa io ho visto cose crude ma tutti sapevamo che quelle c'erano e tutti sapevamo che nel mettere in campo iniziative che cercassero di trovare delle soluzioni era la consapevolezza del sapere che c'era quella vicenda e non c'era bisogno di vedere una foto io trovo che questa la riflessione sarà uno dei temi di cui parleremo la comunicazione sarà uno degli aspetti dell'anno che faremo insieme è mai possibile che per la nostra società ci sia bisogno di una foto per cambiare una politica sapendo che è un po' crudo quello che dico le politiche da mettere in campo dovrebbero essere per evitare che di avere quella foto e non è quella foto che deve essere la base per le politiche si fanno politiche perché si sa che l'outcome è quello che succede quello e allora si fanno politiche per evitarlo non è che si fanno politiche perché è uscita quella foto e credo che questo sia probabilmente uno dei grandi temi che noi abbiamo di fronte saranno dei temi di cui parleremo abbiamo molte persone che hanno dato la loro disponibilità a lavorare con noi su questo tema cito in particolare il centro Astalli che è la struttura dei rifugiati che gestisce i rifugiati dei gesuiti qui a Roma credo che sia una grandissima esperienza per tutti noi in questo grande cambiamento dicevo cittadini del mondo ho citato il tema dell'Africa e che sarà un tema che avremo di fronte per tutto il resto della nostra vita e dovremo gestirlo dovremo viverlo con intelligenza ma vi faccio un altro esempio e vi do un suggerimento chi di voi è già andato all'Expo? tanti allora per chi ci è andato do un suggerimento di interpretazione per chi non ci è andato suggerisco di andarci sta per chiudere è una bella esperienza andarci ed è stato ed è un grande successo dell'Italia l'Expo è il successo dell'Expo andate all'Expo e guardatelo con questa mentalità dividete i padiglioni in due gruppi i padiglioni che vi parlano di futuro che vi dicono qualcosa che vi evoca il futuro e i padiglioni che vi parlano del presente o del passato dopodiché una volta che avete fatto questo esercizio provate a vedere di quali paesi e di quali continenti sono i padiglioni che vi hanno evocato il futuro e quali sono i continenti dei padiglioni che vi hanno evocato il presente e il passato a me questo esercizio mi ha dato come risultato che tutti i padiglioni che parlano di futuro sono tutti di paesi che se voi prendete l'Italia l'Europa dove siamo messi noi sono tutti a oriente rispetto a noi tutti i padiglioni che ci dicono presente o passato sono tutti i nostri o a occidente rispetto a noi questa è stata l'impressione che io ne ho avuto andando all'expo andate al padiglione coreano andate a quello cinese a quello giapponese a quello del Kazakistan a quello di Dubai Qatar Vietnam Malesia impressionante avete la percezione del futuro lì non a caso i prossimi due expo saranno a oriente rispetto a noi Kazakistan prima Dubai poi è un piccolo esempio però per dirvi cosa penso profondamente il cambio del centro nel mondo quel centro che i nostri genitori i miei genitori i miei nonni i vostri nonni bisnonni hanno visto nell'Europa e che non è più l'Europa perché il centro si sposta sempre di più e tendenzialmente si sposta verso oriente sapendo che il mondo di domani sarà un mondo in cui se su una certa cosa cinesi e americani si mettono d'accordo hai voglia poi a cercare di rimontare sarà molto complicato e molti di questi temi avranno a che fare con politiche di cui parleremo una per tutte che seguiremo insieme perché avverrà proprio nei prossimi settimane nei prossimi mesi un avvenimento fondamentale la COP21 la conferenza sul clima che si svolgerà a Parigi che avrà proprio su questo tema toccherà uno degli aspetti centrali qual è l'aspetto centrale a me ha colpito molto sentire fuori dall'Europa tanti non europei che dicono guardate che la vostra crisi ci riguarda perché se voi andate giù non c'è nessuno che porterà avanti i temi della difesa dell'ambiente contro il cambio climatico nel mondo come lo fate voi europei che siete all'avanguardia rispetto a tutto il resto del mondo che ha oggettivamente rispetto a noi standard climatici ambientali totalmente più bassi e se noi non ci fossimo provate a declinare questa cosa se nel mondo non ci fosse l'Europa come sarebbe l'ambiente nel mondo sarebbe molto peggio di come lo è oggi perché l'Europa è all'avanguardia sia in quanto riguarda le regole sia per quanto riguarda standard obiettivi alle volte mi viene da dire che noi italiani dobbiamo ringraziare l'Europa su questo non ho memoria di una legge italiana a difesa dell'ambiente che non sia solo applicazione di una norma europea che a contrario vuol dire che se non ci fossero le norme europee forse avremmo i tubi di scappamento come ce l'hanno in alcune megalopoli del sud del mondo segno che l'Europa su queste cose poi tanto male non è allora se tutto questo è vero questo viaggio ho citato la leadership ho citato cosa vuol dire cittadini del mondo voglio citare il concetto di libertà che è l'altro concetto che cercherò e cercheremo tutti di trasmettervi con grande forza libertà vuol dire essere in grado se avrete voglia dopo questa esperienza di fare politica di fare politica essendo liberi quindi avendo un vostro mestiere cito questo punto in partenza perché sarà uno dei punti sui quali se non siete d'accordo con me litigheremo profondamente su tutte le altre cose discuterò e discuteremo su questo litigheremo perché l'idea che la politica assorba la vita delle persone al punto che una persona faccia nel tempo di domani non sto parlando del passato nel passato quando c'era un'altra contrapposizione est-ovest i partiti non organizzati in un altro modo aveva un senso la politica fatta al 100% della propria vita ma penso a domani domani voi dovrete avere un mestiere se vorrete fare politica e avere un mestiere sarà l'unico modo per essere liberi di fare le vostre battaglie di vincerle di perderle ma di essere liberi di dire quello che pensate fino in fondo di non avere mai il retro gusto il retro pensiero di dire ma se tiro le conseguenze fino in fondo mi ritrovo per la strada perché non ho un mestiere al quale tornare dopo questa battaglia politica e questo sarà uno dei punti chiave anche del lavoro che faremo insieme abbiamo la fortuna di avere in particolare una persona che ringrazio molto Anna Zanardi che è lì una persona che ci aiuterà e vi aiuterà proprio sui percorsi tra virgolette professionali del vostro dopo a capire i vostri talenti a capire come presentarvi a capire come raccontare voi stessi a capire che cosa fare in futuro ma la cosa chiave sarà una professionalità un mestiere un talento non perdetevi in un percorso in cui rischiate di guastare tutto ciò che di positivo state facendo perché non vi rendete conto da subito che la politica è una sirena che può avere questo grande rischio di trascinarvi completamente e di farvi perdere l'ancoraggio al sapere che poi una battaglia politica può finire male e può finire male vuol dire che poi se dovete essere coerenti con le vostre idee dovete essere in grado anche di fare un passo di lato il passo di lato lo potete fare soltanto se questa professionalità e questo mestiere lo avrete e questo concetto di libertà cercheremo di declinarlo in tutti i modi anche nel rapporto con le diverse persone con le quali interagirete sapendo qui c'è purtroppo un po' di paternalismo scusatemi ma se c'è una cosa che ho imparato dalla mia esperienza trovandomi a dover esercitare ruoli importanti in molti di questi ruoli mi sono detto non capendo una cosa che stava accadendo o qualcosa che qualcuno mi stava dicendo se avessi studiato di più quella cosa lì quando potevo oggi sarei più in grado di interagire in un momento in cui non posso permettermi di non ciò che non imparate adesso sarà molto più difficile impararlo dopo questa è l'esperienza che mi sono fatto io perché adesso avete una capacità di apprendimento che dopo non avrete che dopo non avrete mio padre è un matematico adesso in pensione mi raccontava sempre che secondo lui e secondo molti matematici si crea fino a 29 anni da 30 anni in poi si applica quello che si è creato in matematica ma non si crea più e non so se questa cosa è vera non so se è applicabile ad altri campi ma so per certo che imparare dopo è molto 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 più faticoso e so per certo che quello che dovete fare in questi anni è anche un po' di sacrificio per sapere che sono insostituibili questi anni in termini di apprendimento e sapendo anche che l'apprendimento è diverso rispetto al passato mi trovo a insegnare in questa fase della mia vita istituzioni europee e ai miei studenti di istituzioni europee credo che ci sia qualcuno anche qui dico inizio il mio corso dicendo sempre la seguente cosa ricordatevi sempre che in un esame universitario si è richiesti di sapere in istituzioni europee gli articoli del trattato europeo tutti i particolari e i dettagli però ricordatevi anche chiamo a testimone ricordatevi anche che quando c'è stata la crisi quindi tra il 9 il 10 il 11 il 12 il 13 per trovare le soluzioni alla crisi l'Europa il Consiglio europeo le istituzioni europee hanno trovato tutte soluzioni che stanno fuori dai trattati cioè se uno si fosse messo a studiare tutti i trattati a memoria in modo di essere pronto adesso ho tutto sono pronto a tutto ho tutti gli strumenti in mano tutte soluzioni fuori dai trattati tutte invenzioni nuove non previste dai trattati perché i trattati erano troppo rigidi c'era bisogno di più flessibilità la crisi necessitava adattamento e questo è un passaggio chiave apprendimento non vuol dire nozionismo dati non vuol dire informazioni imparate a memoria ma per un motivo molto semplice e questo ha cambiato le nostre vite e dobbiamo prenderne atto tante informazioni inutili che uno le sape a memoria va qui e le trova rapidamente ma allo stesso tempo se uno pensa che non deve studiare perché tanto tutto è qui qui c'è un problema nel senso che la competenza oggi è più importante di ieri e che cos'è la competenza oggi? è sapere tutti gli articoli del trattato europeo? no evidentemente la competenza oggi è la bussola e la bussola non è una quantità di informazioni la bussola è sapere orientarsi rispetto a cosa? rispetto alla più grande massa di dati che nessun uomo al mondo ha mai potuto avere a disposizione di cui noi disponiamo sappiamo tutti da qualche anno a questa parte è una cosa che le vostre generazioni non percepiscono perché non avete memoria di che cos'era 15 anni fa ma io ho memoria di cos'era 15 anni fa 15 anni fa non avevamo la disponibilità totale di tutte le informazioni oggi abbiamo la disponibilità totale di tutte le informazioni il problema è orientarsi dentro tutte queste informazioni se uno non ha la bussola in testa si perde e avere tutte le informazioni disponibili è totalmente inutile totalmente inutile questo sarà un tentativo di ragionamento sull'approfondimento e sul modo col quale apprendere che insieme faremo con pazienza ricordatevi sempre questa frase di Kafka che io trovo straordinaria me la porto sempre dietro ricordatevi sempre questa frase di Kafka Kafka diceva a causa dell'impazienza l'uomo è stato cacciato dal paradiso terrestre e a causa dell'impazienza l'uomo non è ammesso non è riammesso al paradiso terrestre frase forte emblematica bellissima secondo me verissima a causa dell'impazienza l'uomo è stato cacciato dal paradiso terrestre e per via della sua impazienza non viene riammesso nel paradiso terrestre e questo è uno dei temi veri di oggi le soluzioni sono complesse per soluzioni complesse a problemi complesse c'è bisogno di approfondimento competenza non di impazienza e superficialità e siccome questo è il tempo dell'impazienza e della superficialità siamo qui anche per cercare di evitare questo difetto di questo tempo di questo tempo di oggi in una nuova fase della democrazia sarò molto più breve in questo secondo e in questo terzo punto in una nuova fase della democrazia sapendo che il ruolo della politica è completamente cambiato il ruolo dei partiti è completamente cambiato il crollo della fiducia nei confronti dei partiti delle istituzioni è lì di fronte a noi e sapendo c'è una discussione un grande dibattito in corso sul rapporto tra ideali e interessi ho letto interviste ho letto discussioni io penso che ridurre il tempo che stiamo vivendo a un tempo in cui contano solo gli interessi e gli ideali non esistono più e quindi c'è bisogno di una politica che si misuri solamente sugli interessi ed è risposta soltanto sugli interessi ecco questo tipo di politica è la politica del far finta di cambiare le cose cambiare le cose per cambiare le cose ci vogliono ideali e ci deve essere l'applicazione il tentativo di applicare ideali una politica giocata soltanto su come giostrare interessi tra di loro è la politica del far finta di cambiare le cose e quindi lo sforzo che noi faremo insieme sarà quello di declinare l'idea di una politica del futuro centrata su ideali che possano applicarsi al tempo che stiamo vivendo non ideologie forse non strutture ideologiche complesse e rigide ma ideali soltanto gli ideali motivano il grande impegno io penso che noi siamo qui motivati da ideale non credo che siamo qui motivati da interesse voi alla fine di questo corso non è che prendete una laurea non è che avete un lavoro io alla fine di questo corso non è che non è un interesse che ci sta guidando essere qui è un ideale che ci guida voi io i professori tutti quelli che lavoriamo a questo progetto noi siamo qui per un ideale e questa cosa è una grande cosa perché c'è un ideale che ci guida non perché c'è un interesse reciproco che ci stiamo scambiando un grande ideale credo che questo grande ideale sarà quello sul quale dovremo alla fine lavorare sapendo che la politica di domani i partiti di domani o comunque si chiameranno le forme di aggregazione saranno giocate su termini in cui la trasparenza dovrà essere totale l'assenza di trasparenza che abbiamo vissuto nel passato non può più esistere oggi al tempo delle reti sociali di internet tutto deve essere trasparente se non sei trasparente sei non credibile automaticamente non credibile sapendo che oltre alla trasparenza c'è bisogno della credibilità personale la credibilità personale nasce dal fatto che le cose che dici devi viverle se tu dici voi non dovete fare politica a tempo pieno dovete avere un mestiere e se io vi dicessi questa cosa non vivendola io in prima persona non essendomi io messo in discussione come l'ho fatto in questo periodo della mia vita sarebbe totalmente non credibile quello che vi sto dicendo questo vale per questo esempio vale per molti altri esempi il rapporto tra le parole e i fatti è chiave è fondamentale mi verrebbe da dire che dovremmo creare in ogni ambiente della vita politica e amministrativa una specie di unità San Tommaso unità San Tommaso cioè un'unità che chi hai davanti l'interlocutore deve essere in grado di mettere la mano nelle ferite e di toccare con mano come si dice toccare con mano perché la sola parola o la sola espressione idea non basta il cittadino ha bisogno che chi lo amministra gli faccia toccare con mano con fatti oggettivi che le cose stanno cambiando in un modo e in un altro non basta la propaganda di uno dell'altro che dire c'è bisogno di toccare con mano e noi questa cosa qui la studieremo insieme la impareremo cercheremo di capire come fare questo ragionamento su toccare con mano sapendo che questo tema sappiamo tutti è decisivo oggi la fiducia è fondamentale e la fiducia vuol dire il vedere le cose e il rendersi conto che le cose sono effettivamente in un modo o sono in un altro questo viaggio ci vuole portare verso una meta la meta è il motivo per cui siamo qui per cui partiamo da qui e per cui arriveremo a Bruxelles a giugno oggi e vado alla fase finale alla fase conclusiva noi abbiamo un'alternativa tra due siamo a un bivio non vi sembri un gioco di parole dietro a queste due opzioni c'è la sostanza di due opzioni che cambieranno le nostre vite se ne prendiamo una o se ne prendiamo l'altra fu come all'inizio del dopoguerra quando l'Italia si trovò a un certo punto con la possibilità di stare in un campo o di stare in un altro campo delle grandi alleanze internazionali l'Italia poteva entrare subito nella comunità europea o poteva non entrare nella comunità europea subito se noi viviamo il benessere che viviamo e se l'Italia è quello che è oggi è perché alcuni allora fecero quella scelta De Gasper in particolare fece la scelta l'opzione secca e non era scontata perché tutti sappiamo che l'Europa era nata da un'intesa a due Francia e Germania più il Benelux l'ingresso dell'Italia fu una forzante quella forzante è stata fondamentale ha cambiato le vite del nostro paese delle nostre generazioni oggi siamo di fronte a un bivio in Europa e per noi italiani questo bivio è molto particolare questo bivio è tra due opzioni un'opzione è gli Stati Uniti d'Europa questa è la prima opzione l'integrazione europea che a mio avviso non può che avvenire tra i paesi dell'area dell'euro perché l'idea che si chiede alla Gran Bretagna alla Svezia alla Danimarca integriamoci completamente è un'idea che non ha senso l'unica integrazione completa possibile tra i paesi che hanno l'euro è possibile secondo me è necessaria perché dopo aver fatto la moneta unica non si possono non fare tutte le altre politiche economiche e perché sarà l'unico modo perché noi contiamo noi europei contiamo qualcosa nel mondo di domani in quello stesso mondo dove domani la Nigeria avrà tanti abitanti quanto noi e se ce li ha la Nigeria pensate cosa sarà la Cina di domani l'India di domani cosa saranno queste altre parti del mondo di domani noi solamente uniti potremmo riuscire ad avere influenza ma per fare questo gli Stati Uniti d'Europa non possono che avvenire a quel livello e lavoreremo su questo tema molto questa è un'opzione c'è una seconda opzione la seconda opzione è fare l'unione degli Stati Europei è una seconda opzione la parola può anche suonare simile è come il sole e la luna una cosa è fare gli Stati Uniti d'Europa e una cosa è andare verso l'unione degli Stati Europei l'Europa di oggi sta andando verso l'unione degli Stati Europei non verso gli Stati Uniti d'Europa l'unione di oggi sta andando verso l'unione degli Stati Europei cioè sta andando verso un luogo nel quale sono gli Stati quelli che comandano potrei farvi mille episodi alcuni li ho vissuti personalmente ho cercato di combattere contro questa deriva e combatterò sempre contro questa deriva perché l'idea che l'Europa sia l'Europa degli Stati membri noi siamo qui nella casa delle istituzioni comunitarie la Commissione il Parlamento Europeo qui c'è l'Europa noi europei noi ci sentiamo europei e vogliamo andare in quella direzione ma vi faccio un esempio molto semplice vado a chiudere quindi non voglio allungare l'esempio per esempio della perché la vicenda greca è una vicenda che a me mi dà l'idea che non è conclusa io vorrei che fosse una vicenda conclusa con l'happy end la mia impressione è che non non sia conclusa e non ci sia un happy end l'impressione è che ci sia tutt'altro che un happy end l'impressione è che presto si arrivi a un quarto bail out probabilmente perché? ma per due motivi molto semplici qual è stata la foto forse ve la ricordate a luglio a luglio c'è stato il terzo bail out una foto di una discussione notturna che è andata poi su tutti i giornali in questa foto c'era un tavolo due da una parte e uno dall'altra i due da una parte erano Merkel e Hollande e uno dall'altra parte era Tsipras in quella foto non c'era il presidente della commissione europea se in quella foto decisiva non c'è il presidente della commissione europea vuol dire che non c'è l'Europa per un motivo molto semplice pensate il paragone con gli Stati Uniti se fallisce il Texas non è che se fallisce il Texas fa una trattativa privata Texas con la California per trovare il modo di risolvere il problema se fallisce il Texas come in ogni entità federale che si rispetti si sale sopra di livello e si trova una soluzione con una roadmap e tutto il resto se fallisce la Grecia non è che la Grecia se la negozia con la Germania e si è risolto il problema perché non funziona così e questa roba qui andrà a sbattere se non c'è la commissione cioè la rappresentanza dell'intero lì non funziona tutto questo non funzionerà e questo vale per questa vicenda vale per il caso della bailout con la Grecia ma vale per tanti altri esempi della vita comunitaria non sto qui a citarli perché è tardi e devo terminare ma o noi costruiamo un'Europa che abbia questa logica oppure difficilmente riusciremo a farcela e l'Europa di oggi invece l'Europa degli stati membri in cui ma pensate anche soltanto un banale fattore di democrazia se l'Europa è l'unione degli stati membri vuol dire che i leader europei sono i leader degli stati membri ma come si può chiedere a uno che è eletto dalla constituency del suo paese come gli si può chiedere di rappresentare tutti lui è eletto soltanto dai suoi risponde elettoralmente ai suoi democraticamente e non gli si può chiedere di essere il colui che rappresenta tutti questo è un tema secondo me di rimente di tutta questa vicenda pensate anche soltanto a un fatto delle tre istituzioni europee principali consiglio europeo commissione europea parlamento europeo ce ne sono due che sono fatte da persone che rappresentano solo quell'istituzione il parlamento europeo è fatto da parlamentari europei che rappresentano solo il parlamento europeo in tempo l'Italia era la peggiore di tutti perché noi rendevamo possibile che si facesse il parlamentare italiano ed europeo insieme potete immaginare quale performance nel 2004 si cambiò la legge io mi candidai al parlamento europeo nel 2004 per dare un impulso proprio a quest'idea si fa il parlamentare europeo solo il parlamentare europeo si fece perché perché il parlamento europeo è fatto da gente che fa il parlamentare europeo rappresenta il parlamento europeo il popolo europeo punto la commissione europea è fatta da commissari europei che rappresentano la commissione fanno quello il consiglio europeo da chi è fatto il consiglio europeo è fatto da chi rappresenta i governi e poi un giorno al mese rappresenta anche l'intero l'Europa ma se si dà al consiglio europeo ai leader degli stati membri la leadership dell'Europa è finita l'idea di Europa che abbia un futuro perché molto semplicemente nessuno di noi accetterà mai che quello sia il leader se quello è eletto da un paese solo dagli elettori di quel paese il tema che noi dobbiamo porre con grande forza per esempio in vista delle prossime elezioni del parlamento europeo dovrebbe essere già lì di cominciare a fare un passo avanti quando mi si dice dimmi una riforma istituzionale che avrebbe senso secondo me facile da far passare perché voglio vedere chi si mette contro una cosa di questo genere a parte gli inglesi ma tolti loro vorremmo sapere chi si mette contro un'idea del genere il parlamento europeo qui siamo nella casa del parlamento europeo è composto da eletti in 28 elezioni che si svolgono lo stesso giorno insomma o negli stessi giorni non c'è una constituency europea noi eleggiamo i parlamentari italiani io penso che dovremmo dei 700 e passa parlamentari europei dovrebbe esserci una quota consistente eletti in una circoscrizione europea in cui io posso votare e scegliere il parlamentare europeo tedesco spagnolo o francese perché condivido le sue idee ma perché devo per forza sceglierne uno del quale non condivido le idee che però ha la mia stessa provenienza diciamo etnica io condivido le idee di un altro preferisco siamo in Europa quel Parlamento rappresenterà tutti citato questo tema per dire che cosa vuol dire battersi secondo me per battaglie che possono avere un senso e possono andare in questa direzione ma soprattutto sull'Europa l'eccesso di pragmatismo e di realismo finirà per fare danni a noi stessi a noi stessi se c'è un paese che ha bisogno dell'Europa è l'Italia tutta la retorica per cui l'Europa è una zavorra per l'Italia è la retorica di chi non sa le cose di cui si parlano e non sa che l'Italia è grazie all'Europa che è riuscita a evitare alcuni disastri che erano possibili e il futuro dell'Italia sarà un futuro soltanto grazie all'Europa faccio il piccolo esempio che ho citato prima l'Italia perché il mondo di prima era piccolo ha fatto parte del G7 fin da quando il G7 è nato eravamo una volta il sesto una volta il settimo una volta il quinto ma con la crescita dei paesi di cui stavo parlando prima l'Italia uscirà dai primi 10 dai primi 12 dai primi 15 paesi del mondo e lo stesso lo farà la Francia lo stesso la Germania lo stesso la Gran Bretagna non c'è speranza se non si capisce la tendenza del mondo per i nostri paesi europei a pensare la logica un po' banale semplice fermate il treno fermate il mondo che voglio scendere cioè preferisco il mondo di prima in cui eravamo al centro del mondo non è più così e meno male che non è più così non è più così perché non c'è più l'impero sovietico non è più così perché è stata sradicata la povertà in miliardi di persone che prima erano sotto povertà e perché potremmo continuare in questa direzione ma per fare tutto questo c'è assolutamente bisogno che si lavori ecco perché dicevo prima non interessi ma visione ideali e soltanto un grande interesse un grande una grande visione scusate un grande ideale per l'idea di Europa per un'idea di Europa che non è quella di oggi ovviamente perché oggi siamo andando verso l'unione degli stati europei e io credo che dobbiamo batterci conto tutto questo vorrei che il mio paese che il nostro paese fosse alla testa di una battaglia di questo genere alla testa di una battaglia contro la deriva verso un'unione fatta degli stati membri l'unione degli stati membri serve ai più forti non a quelli come noi l'unione degli stati europei serve alla Germania non serve a noi per essere chiari fino in fondo e se noi la giochiamo in termini di stato è forza del singolo Stato senza dare forza alle istituzioni comunitarie semplicemente facciamo l'interesse di altri e non nostro se non ci rendiamo conto di questa cosa la storia italiana è sempre stata questa e abbiamo guadagnato tantissimo da questa noi abbiamo bisogno lì di raddrizzare tutta la vicenda europea di raddrizzarla in termini sulle migrazioni di raddrizzarla sulle politiche sociali di raddrizzarla sul tema dell'euro sulle politiche economiche da unire di fare dell'Europa quella che un tempo è stata e che oggi ha perso e che dobbiamo svilupparla di più l'Europa che parla alle persone che dice alle persone ti do un'opportunità che altrimenti non avresti un'apertura oggi per esempio dovremmo chiedere alle istituzioni comunitarie di sposare questa proposta che si chiama Erasmus Pro Erasmus professionale la proposta dell'Erasmus dell'apprendistato cosa vuol dire avere un progetto europeo che finanzia quei giovani che finito il percorso di studi fanno un apprendistato fuori dal loro paese sapendo che questo sarebbe un modo fantastico dell'Europa per rendersi sexy per rendersi attraente per rendersi vicina alle persone sarebbe un modo per farci e per renderci effettivamente in grado di renderla così positiva e così importante ma tutto questo ha bisogno di iniziative ha bisogno di bisogna evitare quello che sta accadendo in questo periodo quando io dico che c'è bisogno di un centro più forte in Europa lo dico perché quello che stiamo vivendo oggi se mi si chiedesse dimmi in sintesi cos'è successo negli ultimi cinque anni in Europa io non ho dubbi che negli ultimi cinque anni l'Europa è cambiata nel seguente modo prima eravamo più integrati oggi non è il segno della croce ma oggi abbiamo due faglie che si sono aperte e che prima si intuiva che ci fossero ma non erano così aperte la faglia nord-sud e la faglia est-ovest sul lato economico si è aperta la faglia nord-sud se prendete i dati economici sono drammatici i dati su tutte le principali questioni finanziarie di bilancio economiche dicono che i paesi del nord Europa hanno tutti mediamente dati economici e i dati del sud sono tutti mediamente dati prendete soltanto la disoccupazione la disoccupazione giovanile ci unisce tutti Spagna Italia Portogallo Grecia è il dramma maggiore del nostro tempo la disoccupazione giovanile diverso quello di sopra nord-sud si è aperta questa faglia tanto che qualcuno in Germania ha cominciato a ripensare alla vecchia idea facciamo un euro di serie A e un euro di serie B l'euro del nord di serie A l'euro del sud di serie B e poi c'è la faglia est-ovest che non c'era e che si è aperta per la prima volta e si è aperta su due temi se vi ricordate i tempi che abbiamo vissuto si è aperta sulla Russia sulla vicenda Russia-Ucraina e si è aperta sulle migrazioni le parole di due uno di destra e uno di sinistra tra l'altro non soltanto destra le parole di Orban il primo ministro ungherese ma aggiungo le parole anche di Fizzo primo ministro slovacco sul tema delle migrazioni di riaprire e di far salire muri proprio loro proprio loro l'Europa è quella che li ha battuti i muri se c'è una filosofia profonda del nostro modo di essere è esattamente questa filosofia è la filosofia dell'Europa che abbatte i muri non dell'Europa che ricrea i muri e questa non è l'Europa che a noi ci piace non è un'Europa che andrà da nessuna parte parleremo del Brexit parleremo dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea discuteremo profondamente di questo tema che è un tema nel quale si parla poco ma la mia personale valutazione è che il rischio di un'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea è altissimo e più rapidamente si farà il referendum in Gran Bretagna più alta sarà la probabilità che la Gran Bretagna esca e la si sta affrontando con una superficialità spaventosa questa vicenda temo che questa superficialità finisca per dare effetti molto negativi secondo me sarebbe un gravissimo danno per l'Europa se la Gran Bretagna uscisse benché io pensi che la Gran Bretagna non debba far parte dell'Europa integrata completa quella deve essere l'Europa dell'area dell'euro ma la Gran Bretagna svolge un ruolo molto importante su tante altre cose e credo che sarebbe un fatto molto molto negativo abbiamo parlato lungamente di migrazioni e questi saranno dei temi di cui parleremo di più durante tutto questo percorso sarà un percorso coinvolgente affascinante sarà un percorso interessante su tutti i temi di cui parleremo ma ovviamente soprattutto su questa grande questione europea siamo partiti da qui oggi faremo di tutto per trovare la modalità con la quale pensare all'Europa con un nuovo modo di raccontarla questa Europa oggi che non piace sappiamo tutti che siamo davanti a un qualche cosa sul quale siamo controvento ma sappiamo anche tutti che l'Europa di oggi non ci piace nemmeno a noi perché l'Europa così come oggi ha talmente tanti limiti e sta andando su una prospettiva che non è quella di cui noi europei abbiamo bisogno per il futuro che sarà uno dei grandi temi di cui dibatteremo e se mi si chiedesse mi dici qual è stato il discorso europeo e europeista più bello degli ultimi tempi io in conclusione di questa chiacchierata di oggi vi direi che il discorso più bello in termini di europeismo in termini di missione dell'Europa nel mondo che ci chiama noi in causa noi europei figli della storia europea il discorso più bello è quello che ha fatto Papa Francesco al Parlamento di Strasburgo qualche mese fa è stato un discorso vi invito ad andare a rivederlo straordinario perché quel discorso è stato il discorso del primo Papa non europeo della storia che è andato a Strasburgo Strasburgo non Bruxelles tra l'altro anche questo è interessante perché Strasburgo perché Strasburgo è il cuore della democrazia europea i popoli europei eleggono il loro Parlamento e il loro Parlamento sta a Strasburgo che va a Strasburgo e a Strasburgo fa un ragionamento nel quale da non europeo dice a noi europei avete una responsabilità per il mondo intero perché ci sono alcuni grandi temi e non a caso l'ultima enciclica del Papa è sull'ambiente sulla difesa dell'ambiente ci sono alcuni temi in cui o c'è la leadership e la forza dell'Europa oppure su questi temi il mondo non riuscirà a fare i passi avanti che sono necessari ho citato il tema dell'ambiente il Papa ha fatto tutta una serie di altri riferimenti quello dell'immigrazione è uno di quelli nel mondo si vede come vengono trattati i migranti e tutto quello che capita purtroppo noi europei non abbiamo dato dimostrazione di essere molto diversi e invece lo siamo dobbiamo esserlo perché i nostri valori ci dicono che attorno a questi temi dobbiamo fare testimonianze dobbiamo fare battaglia su altre dinamiche questo è il viaggio che faremo sarà un viaggio straordinario ho voluto citare alla fine di questa riflessione con la quale iniziamo questo nostro viaggio a partire da venerdì prossimo ho voluto citare Papa Francesco ho voluto citare un lavoro che il Papa ha fatto che è un lavoro straordinario e questo lavoro straordinario è un lavoro che credo debba essere il punto di riferimento di tutto ciò che insieme nella sede dell'Arel qui vicino la sede di un'associazione creata molti anni fa da un grande economista italiano che è stato mio maestro Nino Andreatta e che insisteva tanto su questa distinzione tra politica e politiche alla quale hai fatto riferimento e che vuole essere il cuore di questa riflessione diversa nuova più impegnativa rispetto alla trasparenza rispetto alla moralità rispetto alla necessità di essere con la spina con la schiena dritta rispetto ai temi di cui stiamo parlando io vorrei che queste riflessioni ci servissero per cominciare questo viaggio sarà un viaggio nel quale cambieremo tutti quando ci ritroveremo a giugno e ci guarderemo dietro le spalle ci ricorderemo questo primo momento nel quale ci siamo tutti guardati per la prima volta e sono convinto che questo guardarsi per la prima volta oggi è un guardarsi per la prima volta dandosi fiducia reciprocamente guardandosi negli occhi tutto questo non può che avvenire così guardandosi negli occhi vedendosi scambiando idee e crescendo insieme perché il viaggio serve esattamente per questo quindi io semplicemente vi auguro calorosamente buon viaggio grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti